Ciao, sono Valerio Novara. Quest'anno le nomination agli Oscar ci saranno martedì 24 gennaio intorno alle 14.30 all'ora di pranzo e ovviamente nessuna televisione italiana seguirà l'evento ma verrà trasmesso solamente in streaming dai canali ufficiali dell'Academy quindi su YouTube e sul sito ufficiale. Noi di Ciacchiazione, come ogni anno, seguiremo in diretta a partire dalle 13.30 l'evento sulle nostre pagine Facebook e YouTube martedì 24 gennaio e c'è da dire che quest'anno la partecipazione alle nomination per votare le nomination agli Oscar è stata veramente da record. Il CEO dell'Academy ha fatto sapere in una lettera che sono stati moltissimi degli oltre 9.000 membri dell'Academy a partecipare a queste votazioni che si sono concluse il 17 gennaio, che hanno determinato i film candidati, gli attori, gli sceneggiatori, i registi candidati nelle varie categorie che vedremo la notte degli Oscar il 12 marzo e la notte tra il 12 e il 13 marzo prossimo. Martedì ci saranno le nomination e ricordiamo, insomma, i membri dell'Academy sono gli addetti ai lavori quindi a differenza dei Golden Globe che vengono votati dai giornalisti della stampa estera di Hollywood l'Academy è composta da registi, attori, sceneggiatori, direttori della fotografia, del montaggio e sarà interessante capire chi sarà candidato e quali differenze ci saranno rispetto ai Golden Globe che abbiamo seguito questo mese e che sono stati, diciamo, il primo vero evento cinematografico dell'anno. Noi seguiremo in diretta l'evento, come dicevo, presenteranno Risa Madd e Alison Williams in diretta all'ora di pranzo, martedì 24 gennaio e ci aspettiamo, insomma, le conferme dei film e degli attori che sono andati molto bene ai Golden Globe quali Fabelmans, Steven Spielberg, Avatar e sarà interessante vedere, a differenza dei Golden Globe, tutti i premi tecnici io personalmente ho un debole per il premio per il miglior montaggio il miglior sonoro, chissà se Top Gun Maverick riuscirà ad accaparrarsi almeno un premio tra il miglior sonoro e la miglior canzone originale quindi ci sarà probabilmente candidata anche la canzone di Lady Gaga nonché quella di Rihanna, insomma, sarà un evento da non perdere anche perché poi faremo i nostri pronostici come ogni anno che ci porteranno alla notte degli Oscar, che ci sarà il 12 marzo io vi lascio qui sotto il link in descrizione per seguirci martedì 24 gennaio intorno alle 13.30 su YouTube e su Facebook seguiremo e commenteremo, tradurremo per voi, insomma, le nomination agli Oscar e vi consiglio di iscrivervi al canale YouTube di CiaccheAzione se ancora non l'avete fatto e di seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram alla prossima!